Siamo in una linea. ma dai ma che fai che entrava questa dai ciccio mi sono girato no vedi questo è già un regalo Davi stai lì da una rete se passa la palla di qua la prendi che tanto se no io ci arrivo ci credo grazie grazie grande faccia ci va a doire in mezzo grazie 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 7-10 vediamo che fa questo ragazzo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.